Il primo giorno di scuola a Entro è stato quest'anno un momento di festa per l'inaugurazione ufficiale del nuovo ampliamento delle scuole, oggi più belle e con nuovi spazi e servizi. Alla presenza delle autorità regionali, del primo cittadino del paese Vittorio Anglesio e dell'assessore regionale all'istruzione e cultura Joel Farkoz, il taglio del nastro ha suscitato l'entusiasmo di numerosi alunni presenti, delle maestre e del pubblico che hanno preso parte a questo evento. Dal punto di vista amministrativo, la Giunta regionale il 30 agosto 2013 ha approvato i criteri per la definizione della graduatoria dei progetti di delizia scolastica che saranno presentati alla Regione dagli enti locali e dalle strutture regionali competenti per ottenere finanziamenti. Aprire una scuola o comunque una parte nuova di scuola è un messaggio fortissimo, soprattutto in questi momenti di ristrettezza economica, di crisi, mantenere la scuola sul territorio credo che sia una delle principali filosofie che dovrebbe animare l'assessorato all'istruzione e cultura. Così è stato fatto e perseguiremo sicuramente questa filosofia. Allo stesso tempo cercheremo di rivalutare, di iniziare a stilare delle linee guida che possono servire per la costruzione, come già stato detto prima, più efficiente sia dal punto di vista ambientale che energetico che logistico degli spazi. L'edificio scolastico di Entro, che ha quasi 40 anni, negli anni è stato interessato da progressivi interventi di riqualificazione e allargamento. Gli ultimi lavori strutturali sono costati poco meno di mezzo milione di euro. Qui sono stati aggiunti circa 174 mila euro di interventi migliorativi. Interventi che hanno migliorato l'accessibilità e l'uso dell'edificio ai disabili, con un aumento del numero di uscite di sicurezza. È stato inoltre creato un nuovo corpo ad ovest, con la realizzazione al piano terra di un nuovo refettorio di circa 50 metri quadrati, per garantire uno spazio alla scuola dell'infanzia, uno spogliatoio per la scuola primaria e un nuovo servizio igienico. Al primo piano è stata realizzata un'area di 70 metri quadrati per attività libere e dormitorio. Sono state aumentate le uscite di sicurezza e i servizi igienici. È stata poi sostituita la vecchia caldaglia a gasolio con una nuova pellet, che permette un risparmio energetico ed economico con la diminuzione di emissioni di CO2. È stata infine realizzata la nuova area giochi per l'infanzia sopra la palestra ed è stata sistemata l'area giochi della scuola primaria, con la creazione di un orto didattico. A prendere questo qui è un momento proprio di gioia, perché questa è la prima opera che la mia amministrazione ha fatto dall'inizio, quindi dalla prima progettazione alla realizzazione. Siamo stati fortunati perché abbiamo avuto la possibilità di poter accedere al finanziamento regionale grazie alla legge 47 del 2009 sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici. Siamo entrati in gradatoria col progettista a Corri, che ci ha fatto secondo me un bellissimo progetto, perché era anche abbastanza difficile andare a creare dei nuovi volumi in un contesto storico del genere, perché ci rendiamo conto che noi qui abbiamo la scuola, però vicino abbiamo un castello, il granaio del 1200, quindi con questo piccolo inserimento secondo me è stato proprio azzeccato dal punto di vista architettonico. Poi dall'altra parte siamo stati fortunati anche lì perché abbiamo avuto un'impresa che ha lavorato molto bene, perché oggi è il 12 settembre e siamo riusciti in un anno e mezzo quasi a terminare i lavori. Ora a frequentare il nuovo edificio saranno 30 bambini della scuola dell'infanzia e 38 della scuola primaria. I lavori hanno infatti permesso un importante incremento del numero di alunni, pari a 40 unità. E proprio dalle analisi preventive all'inizio dei lavori è venuta alla luce un'importante scoperta, lo scheletro dell'ormai celebre signora di Entrò, che dagli studi effettuati risulta appartenente a una donna di circa 45 anni, vissuta ben 5.000 anni fa.